La boccola devi poi cambiarla, i cucinetti della boccola, ci sono due serie nuove. Non è rumorosissima. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porterebbe il 32 ma non scarica lo spezzone. Scriviamo tra fuori. Ok. Qua? Uhum. Puoi anche andare fino ad oggi. Ok. Qua? Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti.